Ciao bambini, eccoci di nuovo. Spero che vi siate divertiti a fare l'attività che abbiamo proposto questa mattina. Ed io sono qui adesso per apparecchiare insieme, perché è quasi sei ora di pranzo. Vi avete seguiti i consigli di Emma? Sono molto contenta. E anche noi oggi mangeremo, abbiamo deciso, un po' di minestrone e poi un'ottima caprese, proprio come era il consiglio di Emma. Allora, come vi dicevo, noi a casa siamo in tre. Spesso apparecchiamo con la tovaglia o altrimenti, perché siccome ci piace mangiare su questa penisola, usiamo le tovagliette. Quindi prendiamo oggi le tovagliette, che sono tre. una per papà, una per mamma e una per Aurora. Eccoci qua. Tre tovagliette, le abbiamo posizionate. Adesso prendiamo due piatti piani per mamma e papà. In ceramica, uno e due. e uno per Aurora, perché lei comunque è sempre piccolina. Ecco qua, quindi ha il suo. Ecco qua. Poi prendiamo, visto che mangeremo il minestrone, tre piatti fondi. Sempre questo qui per Aurora e uno e due piatti per papà e per mamma. Ecco qua. Poi a questo punto possiamo prendere anche i bicchieri. Uno e due, per mamma e papà. Il bicchiere va davanti al piatto. Vedete? Davanti al piatto. E adesso prendiamo anche il biberon per Aurora. Ecco qua. Ora posizioniamo i tovaglioli alla sinistra del piatto. Uno, due e tre per Aurora. Ecco qua. e poi prendiamo tre cucchiai. Due grandi e uno più piccolino. Uno, due. Uno e due. E per Aurora un cucchiaino più piccolino. E adesso prendiamo anche due forchette e due coltelli. Così potremo mangiare la caprese appunto con la forchetta. Ecco qua. Uno e due. Anche per papà. Ed eccoci qua. La tavola è completa e manca soltanto di servire il pranzo. E voi? Lo state facendo? Bene. Allora, buon appetito. Ciao! Allora, buon appetito.